C'è anche il Gela FC tra le otto società che hanno chiesto il ripescaggio in eccellenza. Due giorni fa si è concluso il termine per le iscrizioni nei campionati di eccellenza e promozione. Nel massimo torneo regionale sono 30 le società iscritte sulle 33 aventi diritto. Tre i club che hanno rinunciato, i posti in organico sono 32. Il Troina non ha provveduto a formalizzare l'iscrizione online entro il termine stabilito, mentre Via Grande e Monreale, benché iscritte online, hanno successivamente presentato istanza nella quale hanno chiesto di rinunciare alla partecipazione al campionato di eccellenza. È stata la stessa LN di Sicilia ad aver comunicato che sono state otto le domande di ripescaggio al campionato di eccellenza che attualmente ha due posti da occupare. A questo proposito è stata istituita un'apposita commissione che si riunirà il prossimo martedì 9 agosto per esaminare le istanze e attribuire i relativi punteggi. Il consiglio direttivo del comitato, nella riunione che sarà convocata per il 10 agosto, stirrà le relative graduatorie. Il presidente del Gela FC, Marco Scerra, appare comunque fiducioso. Sono ottimista, ha detto, sono convinto che le possibilità di essere ammessi in eccellenza sono molto alte. Abbiamo tutti i requisiti per poter ambire ad uno dei due posti disponibili. La società lavora in silenzio, ma ha in serbo 5-6 colpi che saranno ufficializzati nei prossimi giorni. Intanto torna alla base il centrocampista Gabriel Falsaperla, dopo il prestito ai cugini della SS di Gela. Arriveranno sia calciatori argentini che europei, oltre che un attaccante a sorpresa, forse Emilio Docente. Confermato, invece, l'addio al capitano Angelo Ascia, che ha scelto di riprendere gli studi universitari. Raduno l'1 agosto allo Stadio Presti. In promozione, invece, hanno presentato domande di iscrizione online al campionato 56 società su 58 a 20 diritto. Hanno rinunciato Raffadali e Sporting e Ubea. La SS di Gela potrebbe essere inserita nel giornale D. Squadra quasi al completo. Il DS Cammarata lavora per un nuovo portiere, un difensore centrale ed un centrocampista.